Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Sono ritornato qui con Giuse360 dopo tantissimo tempo, per che cosa? Esatto, siamo qua per una nuova sfida tra le nostre carriere, il mio Napoli contro la tua Lazio Mettiamo le mani avanti ragazzi, il Napoli di Giuse che è alla quarta stagione è formidabile Ci sono top player che nella mia Lazio vedremo forse fra un paio di stagioni Quindi io metto le mani avanti nel caso prendessi una goleata, non si sa mai Sì, diciamo che sulla carta siamo noi più forti, però può succedere di tutto sul campo, posso anche perdere 3-4-0 Esatto, ma oddio oddio, non lo so, però comunque lo vedremo subito ragazzi Però vi ricordo che sul canale di Giuse è uscito il ritorno, diciamo così Quindi in descrizione trovate il link del video e anche del canale di Giuse Fateci un salto e andate a vedere anche il video sul suo canale, mi raccomando Possiamo andare? Andiamo, io faccio un piccolo cambio però nella formazione Attenzione, questa non me l'aspettavo sinceramente Cos'è successo? No, perché adesso che ci penso ci ho il segno fuori Ed eccoci qua signori, dunque in campo allo stadio olimpico per Lazio-Napoli Tutto pronto, la tensione è alle stelle Esatto, ci siamo Ci siamo Attenzione subito alla Lazio che va in avanti Immobile Lo gioca per Milinkovic-Savic Ancora Milinkovic-Savic No dai Ma resta lì, Milinkovic-Savic Dopo due minuti 1-0 last, qualcosa di incredibile è successo Non saprei spiegarlo Ma Non ho capito cosa è successo però vabbè Un quadrupo l'impallo Ma E' destino, è destino Si, si Si ha fatto male Milinkovic-Savic, non dirmelo Si possono infortunare i giocatori, veramente? Ah non lo so Qua può succedere di tutto su sto gioco Rakitic diventa buona per Messi Messi la finta Rakitic indietro Belotti col sinistro Marchetti fa buona guardia Calcio d'angolo Rakitic Qualcuno che ci arrivi Belotti Mamma mia, mamma mia però Bella rischiosa Vediamo Eh si In mezzo a due giocatori Belotti Eh si Andresi Mamma mia che combini Neymar Forza E' buona per Rakitic Vai dal lato lato per Messi Forza Messi Fino in fondo Fino in fondo Messi la finta Rallenta Appoggia Rakitic Di tacco per Belotti Col sinistro De Vrij Ci mette il corpicino Bravo Lorenzi Rakitic Niente Verratti Forza Rakitic Ragioniamo ragazzi Ragioniamo Giordi Alba Neymar Rakitic Con calma Rakitic È morto Belotti Verratti Neymar Verratti Dentro per Neymar Tira col sinistro Neymar 1-1 Prendi la Neymar Eh Valla piglia Eh ragazzi Se lasci tanto spazio Troppo spazio De Vrij Ma cosa stava facendo Gli dava il culo Gli dava De Vrij Mamma Se lasci tanto spazio Così a A questi giocatori Come fai Come fai Belotti Belotti si è sacrificato Per la squadra Ha lasciato sull'aria Una gamba Ok La last Forse Rinizia a giocare Milinkovic Mamma che chiusura Ha fatto Zuma Zuma È buona Belotti Neymar Messi Ok Con calma Messi con il numero 2 Spero di aver visto male Belotti Messi Niente Messi col 2 Messi Mamma mia Personalità Messi In questo caso Verratti Neymar Appoggia per Rakitic Veda l'altro Per Messi È buona Messi con calma Messi la finta Rientra Mi sta laggando tutto Anche a me Anche a me Non sono riuscito a dire Ma ha laggato Bello Sì anch'io Proprio non sapevo Cosa fosse successo Calcio d'angolo Di testa Rugani Mamma mia Il colpo di testa Più brutto Della mia vita Mi si è fermato Il cuore Quando l'ha laggato Così Neymar La mette giù Allarga per Florenzi In mezzo a 2 Ok Buona per Messi Messi Non fatelo tirare Mamma mia Tiro centrale Marchetti Vlockala quella palla Eh sì Calcio d'angolo Bruttissimo Bruttissimo Insigne Tiraci Lorenzo Quanto ci metti Ma perché ci ha messo 8 anni Verratti Rakitic Bellissimo Bellissimo Signori Bellissimo Insigne Insigne Quando scommetti Che mi segna il prossimo Sono sicuro Guarda Ma se lo farò Al prossimo Perché C'hai dei giocatori Formidabili Sicurissimo Guarda Attenzione alla ripartenza Della lastia qua Karsdorp Immobile Per Andre Silva col destro Non ho capito Bene cosa è successo Ha tirato proprio male E si è deviata No Ha tirato male 4 di recupero Addirittura Mai visto 4 di recupero Che durano Però già 8 Neymar Belotti 1-2 Neymar Niente Bella chiusura Di De Vrij Siamo a 10 minuti Di recupero Perfetto Fischia qua l'arbitro 1-1 Un primo tempo Dominato dal Napoli Si sapeva Dai ragazzi E ma è il risultato Quello che conta Però Tu più lo dici E più mi parti Sportuno Lo sai Vero E ma Insigne I dati cantano Bigli Allora tutto per Tyson C'è Florenzi che prova a chiuderlo Tyson in qualche modo Mantiene il possesso del pallone Ander Silva Bella per Biglia Biglia davanti a Donnarumma Immobile 2-1 Cinici Come non so cosa ragazzi Cinici come non so cosa Qui bellissima azione D'altro Eh si Bella azione Poi Biglia in realtà Doveva chiudere prima il pallone Il gol qua L'azione diciamo Gran parata di Donnarumma Mamma mia Gran parata Poi immobile Tapin vincente 2-1 Tutto quanto dovrei fare Adesso devo fare altri 10 tiri in porta Per farne uno però No Insigne Prendi a Lorenzo Su così Con i rimpalli Belotti È buona Rakitic Guarda Belotti Belotti Incrocia Palla sul palo E sono due Vabbè ragazzo Un bucio di culo Che è Non sto neanche qui A descrivervelo Fondo Cosa ho fatto Messi Non volevo fare questo Neymar Dentro per Belotti Dentro per Messi Sarà fuori gioco Non ci credo Non ci credo Non ci credo Messi con numero 2 Per favore Ma com'è possibile Messi Non ci credo Non ci posso credere Ho capito che è sinistro però Eh vabbè Neymar diventa buona per Belotti Di tacco Neymar Belotti Con calma Ok Neymar Neymar Almeno tu 2-2 E andiamo Prendi la Neymar E con la difesa è andata Neymar è passato come un coltello nel burro Niente da fare Ma infatti io nella mia carriera Ho detto che dovrò migliorare la difesa Non si può Eh io peccato qui con la difesa Che a me non è tanto buona Perché Rugani e Zuma Mi sono cresciuti di 8 In 4 anni Ah Però l'andrò forti dai Eh sono 80-80 Siamo Andrescilva Occhio Per immobile È passato immobile 3-2 ragazzi E qua parlavano di difesa Qui l'altra dormita Niente da fare Che partita però ragazzi Eh sì Asculto veramente Oltre le mie più rose Le mie più rose aspettative Devo dire Ma te l'ho detto che poteva succedere di tutto Due pali Eh qua Zuma Brutta palla persa Rugani fuori posizione Immobile Cinico Attenzione a Biglia Dai Lorenzi Biglia la mette in mezzo Andrescilva l'incrocio Mamma mia L'incrocio clamoroso di Andrescilva Eh ma Andrescilva c'ha un destro Fuori di testa Cioè è venuta giù la porta Eh sì Eh sì Bravo Karstorp Bella Per Ciruzzo Rientra Ciruzzo Dai Felipe Anderson Per Karstorp Che tiraccio Che tiraccio Andrescilva L'appoggia Milinkovic Andresilva Col 12 Tra l'altro Andresilva L'ho visto adesso Vabbè Non può essere così Peggio come Messi Col 2 No decisamente Messi col 2 Ai limiti del guardabile Ai limiti del guardabile Aia Florenti Messi È buona per Belotti Fai correre Neymar Forza Neymar Voglio la tua tripletta Neymar Con calma Appoggia Belotti Fallo bene E dall'altro lato Insigne Piazza 3 a 3 Prendi Lorenzo Anzi non prendila Che porta sfortuna Che mi sei giudato Un secondo E niente ragazzi Niente da fare Bella azione Tanti passaggi E gol di Insigne Giusto così dai Rakitic Neymar Larga dall'altro lato Forza così Verratti Fai correre Insigne È buona Insigne Qui in fondo La finta Insigne Entra dentro Appoggia per Neymar No A piazzarla Neymar Traversa linea Me ne posso andare Per favore Me ne posso andare Ti prego Traversa linea Florenzi Florenzi Fallo Ti prego Me ne posso andare È possibile Traversa linea Non la vedevo Da un sacco di tempo Calcio di punizione Messi Cos'è Cos'è questa roba Messi Cos'è Per favore Dai Ti porta sfortuna Un pirotecnico 3 a 3 Partita più bella Non la potevate sperare Ragazzi Ma veramente Assolutamente Va bene ragazzi Il video finisce qui Ci decide tutto sul mio canale Si decide tutto sul suo canale Assolutamente Vi ricordo ragazzi Di passare Dal video di Giuse Trovate il link In descrizione Lasciate un bel mi piace Ringrazio nuovamente Giuse Per essere stato ospite Qua sul mio canale Ci rivedremo poi Nel tempo Tanto Assolutamente Magari Sempre molto disponibile Ma sì Magari quando cambiamo Un po' di giocatori Che facciamo Il mercato Possiamo poi Riparla Eh voilà Magari quando mi rafforzo Ancora un po' Anche io Va bene ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Lascio salutare Giuse E ci diamo alla prossima Va bene Io ringrazio te Menzo Ci vediamo con un prossimo video Bella Ciao